Ma qui c'è stato e parlato con la Lazio, con il Presidente Lotito, però poi dopo non ci siamo trovati, non hanno fatto niente e poi fortunatamente si è arrivata la Juventus. Per quanto riguarda quello che ha detto il CT della Nazionale, ripeto che l'unica cosa da fare, credo che sia la migliore, quella di trovarsi, avere un confronto e avere un dibattito, per cercare di migliorare quelle che possono essere le mancanze del calcio italiano. Io credo che nel calcio italiano ci sono degli ottimi allenatori, la scuola di Coverciano tira fuori degli ottimi allenatori, degli ottimi preparatori atletici, credo che bisogna un attimino confrontarsi tutti gli allenatori per cercare di migliorare quelle che possiamo noi migliorare a livello di campo, poi dopo le altre cose devono essere migliorate da altri organi di competenza. Come la vedo, innanzitutto, come ho detto varie volte, sono contento che i miei giocatori vada al Nazionale, perché il Nazionale è giusto e tutti bisogna sperare che vada bene. Ma credo che fare polemiche a distanza serva praticamente a poco, io credo che l'unica cosa che si possa fare è che tutti gli allenatori di Serie A, i 20 che siamo in Serie A, ci ritroviamo insieme al CT a Coverciano. Per un confronto costruttivo, per vedere dov'è che sono le cose da migliorare, visto che vengono dette tante cose, quello sarebbe un momento in cui potremmo cercare attraverso questo confronto di fare il possibile per migliorare quelle che sono le nostre competenze calcistiche e credo che sia molto semplice.